Bitcoin che ha fatto? Io ho messo un alert poi su 15 minuti perché volevo essere un po' più speculativo questa mattina perché alle 10 avevo preparato un alert mentre poco dopo che ho chiuso il video di preparazione per studenti avevo visto questo cap and handle, ok? Appena ha rotto il cap and handle, su 15 minuti ragazzi non è neanche necessario molte volte aspettare un ritest perché se hai a rottura con una candela decisa si può andare tranquilli e infatti che cosa è successo a Bitcoin dal cap and handle? Questo è il cap and handle, guardate dove siamo arrivati, ok? Questa è un'operazione in cui bravi, devo complimentarmi con tutti gli studenti che l'avete presa anche chi non l'ha presa non fa niente, prendete la prossima non pensate che un'operazione sia l'operazione che vi salva la vita quindi bravo Fede, bravo Marco, bravo tutti Mauro anche chi non mi ha mandato gli screenshot siete stati bravi, va bene lo stesso, ok? non vi preoccupate se vi perdete queste accelerazioni questa era un'operazione che io avevo